Oggi era una partita più difficile, prima perché il Napoli veniva da una stravittoria con il Liverpool, quindi tutti gasati, Spalletti ha fatto un po' di turnover, però di base affrontavi una squadra sulle grandi ali dell'entusiasmo, quindi il fatto di essere riusciti a rimanere in partita è vero, sì, Dragoschi avrà dovuto fare con le due o tre parate anche difficili, però non è che ci hanno preso a pallonate come è successo in altre gare, parlo di Napoli ovviamente, soprattutto il primo anno, il primo anno ci presero a pallonate, rimanemmo addirittura in dieci, poi vincemo roccambolescamente, oggi la difesa si è comportato molto bene, il mister ha praticamente fatto un 3-5-2 che poi in realtà era un 4-3-3 perché Olma andava a giocare molto alto sul terzino del Napoli, su Baylorui, dall'altra parte Giasi si allargava a sinistra per dare una copertura su Di Lorenzo, nello stesso momento la difesa praticamente scalava, quindi Ampadu andava a marcare Cavaschiglia, dall'altra parte invece Rezza stava più in copertura, quindi non andava praticamente quasi mai su per stare in copertura sull'esterno, Kivior secondo me fantastico, molto bene anche Nicolao, dietro sono andati tutti bene, Ampadu forse ai primi minuti nel suo nuovo impatto con la Serie A non lo ha vissuto molto bene, gli ha fatto subito un turno in Cavaschiglia, poi piano piano anche lui si è inserito molto bene, nel secondo tempo il Napoli può mettere in campo ovviamente giocatori che sono identici a quelli che leva e in questo momento lo Spezza con le assenze che ha davanti non può mettere in campo la stessa qualità o comunque mette in campo giocatori che magari hanno qualità ma hanno caratteristiche diverse da quelli che sono usciti e quindi non puoi riproporre magari la solita gara, è chiaro che un altro a Gudelo tu non ce l'hai, se esci a Gudelo ed entra un giocatore di caratteristiche diverse evidentemente perdi quello che ti dava a Gudelo perché non hai il giocatore, è chiaro che dispiace perché quando perdi una partita così dopo aver fatto una partita globale quasi perfetta, è chiaro che se fossimo stati più bravi davanti forse saremmo andati anche in vantaggio, ma insomma penso che questa gara contro il Napoli fatta così, Gotti l'abbiamo sentito molto felice, penso che sia di buon auspicio.